Siamo ancora in Colorado sulla Interstate 36 che praticamente congiunge Denver con il confine del Kansas e lungo la strada ci siamo imbattuti in un allevamento di bisonti e diventa una buona occasione per ricordare che in realtà la caccia al bisonte, lo sterminio del bisonte nelle grandi pratterie del Kansas e del Colorado in realtà è durato molto poco, molti hanno la sensazione, abbiamo la sensazione guardando i film che sia stato un periodo molto lungo in realtà la caccia è durata più o meno dal 1870 al 1884 tant'è che già dal 1870 al 1878-79 nei territori del Kansas che sono stati i primi Kansas e Nebraska che sono stati i primi ad essere interessati alla caccia al bisonte e allo sterminio ecco dal 78-79 i cacciatori si sono poi spostati in Wyoming, in Dakota, in Montana è un animale bellissimo, molto particolare, fa impressione vederlo, fa impressione avere davanti agli occhi le scene dei film della caccia al bisonte ecco, era giusto per ricordare che la caccia così spropositata e senza senno a questo animale è cominciata in questi territori e ancora più nelle Great Plains che sono praticamente le pianure del Kansas che sono a circa 200-250 miglia da qui andando verso est grazie 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 Grazie.